7 e 19 del 25 ottobre buongiorno bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione la musica di cittadella la radio e di studio 100 bentrovati a coloro che ci ascoltano sui 96 e 5 dalla radio tradizionale che quest'anno lo ricordiamo compie un secolo di vita ma buongiorno anche a coloro che sono un po più tecnologici e ci seguono dai nostri streaming attraverso radio cittadella punto it studio 100 punto it o che vivono magari nella provincia di taranto brindisi bari e batte quindi sono sintonizzati sul canale 98 che addirittura sono nel punto più alto della classifica di quelli tecnologicamente avanzati e hanno scaricato la nostra app e ci seguono attraverso tutti gli smartphone ma anche le tv le insomma tutti i canali possibili e immaginabili buongiorno anche a chi segue la parte tecnica che oggi è alessandro labriola insieme a piero caffio giusto oggi è la giornata di piero benissimo buongiorno da francesco casula e soprattutto buongiorno a la donna cui ho rubato tutti questi secondi di lavoro buongiorno marina buongiorno buongiorno a tutti allora oggi grande giornata continueremo a parlare del caso che sta tenendo banco nuovamente a livello nazionale che il caso di avetrana è la fiction su sarascazzi che come dire ancora una volta continua a essere un tema un argomento quasi quasi dettare l'agenda un po dei giornali dal 2010 ad oggi purtroppo sì purtroppo sì anche quando si tratta di fiction continua a tenere banco questa storia ma non parleremo solo di questo parleremo anche della vicenda del cane di quartiere investito senza essere soccorso è scattata una denuncia per chi evidentemente guidava la macchina per maltrattamento di animali e oggi c'è una settina ad uggiano montefusco e insomma parleremo anche di questo con la presidente della lav di taranto rosy savino per capire il punto di vista appunto di chi tutela gli animali rispetto a questa storia perché ci sono anche tante anime anche rispetto alla vicenda e poi da uggiano montefusco frazione di manduria credo voleremo a martina franca dove i carabinieri hanno tenuto una conferenza stampa un incontro anzi scusa con gli anziani a proposito di queste di questo fenomeno ormai questa piaga particolarmente dilagante che le truffe agli anziani il finto nipote il finto carabinieri purtroppo escamotage terribili e odiosi per spillare soldi risparmi di una vita probabilmente le persone anziane più fragili e poi parleremo di un nuovo libro che esce oggi è di giuliano pavone si intitola per diventare eduardo è un omaggio eduardo de filippo ma anche alla nostra città ci faremo ci faremo raccontare questo connubio e poi con lui parleremo anche di calcio perché lui scrisse anni fa l'eroe dei due mari un un libro che raccontava una storia insomma che sembrava fantasiosa qualcuno che arrivava da fuori a cercare di salvare le sorti del taranto calcio ma evidentemente la realtà supera sempre la fantasia giuliano pavone come i simpson profeta in patria capito insomma ha azzeccato chissà la storia di campbell lo sai magari è più o meno più o meno non era un presidente in cui non era un calciatore però è un uomo venuto da molto lontano diceva insomma il papa sì e poi insomma in ultimo vi racconteremo di una raccolta fondi che ha permesso insomma di ottenere la bellezza di 130 mila euro andranno per la ricerca biomedica è una raccolta fondi che nasce da un concerto che si è tenuto a massafra ma ci racconterà tutto più tardi valentina castellani bene e allora non resta che alzare la nostra sara cinesca virtuale dell'edicole cominciare a vedere i titoli delle principali testate locali e regionali partendo come sempre dal corriere del mezzogiorno l'apertura è dedicata alla sanità si parla di chirurghi con le lampadine sala operatoria al buio l'intervento su una bambina concluso grazie alle luci dei caschi e guasto la scialitica scialitica si non si riempia la luce quella tipo bianca nel film sempre quando si sveglia che si accende gli occhi chiusi sul tavolo operatorio che guasto la scialitica del reparto di ontostomatologia all'ospedale vito fazzi di lecce insomma siamo messi bene e poi scontro sulla fiction valentina misteri pronti a tutelarci il caso di avetrana la serie sbarca negli usa e come mai in italia no sbarca negli usi ma non lo so va bene forse sbarca dici sbarca nel senso che già partita o sbarca nel senso che arriverà ma anche lì ancora si attende io sapevo per certo che la distribuzione era praticamente in tutto il mondo non è anche questo che non piace troppo alle persone di avetrana cioè non solo in tutta l'italia avetrana uguale casuscazzi in tutto non c'è non c'è proprio possibilità di salvarsi dovrebbero andare in un altro pianeta non lo so però facciamo un piccolo esempio a el paso di us e in texas cose del genere perché dovrebbero sapere a vetrana cioè la conoscono per un fatto c'è tutti purtroppo siamo legati a degli eventi quindi brutto non sto dicendo che sia una cosa carina però purtroppo è andata così è vabbè fanno saltare il bancomat banditi in fuga a mani vuote durante la notte avvenuto credo nel barese giusto in via bruno buozzi quindi credo bari bari città a brindisi invece voti per 50 euro svolta nell'inchiesta 5 gli indagati a brindisi gli accertamenti della procura un pezzo di claudio tadicini e mi è saltata la pagina non so come io abbia fatto mai su chiudi vado su niente no e continuare continuare mai giù ok poi nobel scuola trionfa il galilei costa c'è un istituto salentino che ha vinto il nobel per la scuola non sapevo che esistesse un nobel anche per il minuto e di quante cose si scoprono leggendo i giornali comprateli andiamo invece a vedere la prima pagina della gazzetta del mezzogiorno che apre con la politica in particolare la politica regionale il titolo è emiliano ter addio il presidente conferma non mi ricandito nel 2025 i due anni di meloni big del governo oggi in puglia e poi torna libero allo russo eppure olivieri spera bari politica e mafia revocati di domiciliari alla ex consigliera insomma la vicenda del bari gate come venne soprannominata insomma quando venne fuori tutta questa questa storia e poi andiamo a vedere la pancia della prima pagina la sopraintendenza la sopraintendenza ferma il mega resort israeliano di ostuni errori nel procedimento fa discutere il piano regionale aree idonee credo aree idonee sì sì e poi la rivincita di chiara dal coma mike tyson new york la pugile originaria di mola si allena per il piuma come si chiama sta chiara di cognome sappiamo scopriamolo andando a pagina 62 scoprire adesso corro fino a pagina 62 e te lo dico va bene vai vai guarda guarda quando sono quanto sono operativo sono molto molto curiosa di sapere il nome di chiara che per me è solo una santa dal com per me mia mamma a vedi ecco perfetto quindi ognuno ha una chiara nella sua vita e comunque parla di coma quindi credo che sia una storia come dire bella sicuramente bella allora si chiama chiara di turi immagino eccola qua eccola di turi dal coma alla palestra di tyson rincorrendo il titolo mondiale piuma è certo una bella bellissima storia la scrive antonio galizia e la trovate sulla gazzetta del mezzogiorno insomma cominciamo a guardare adesso nel dettaglio qualcos'altro o vuoi andiamo con edicola del sud e poi lanciamo magari un pezzo va bene eccoci qua strade killer non c'è più tempo la regione vuole i commissari il governatore pugliese e l'assessore dei trasporti hanno scritto al ministro salvini chiedendo la nomina di figure che possano accelerare l'attuazione degli interventi al centro della pagina ancora la politica terzo mandato emiliano dice no io candidabile la questione è solo politica ora questa cosa del terzo mandato è fighissima secondo me nel senso che è la dimostrazione di come in qualche modo ci si autoconservi in politica è sempre un servizio alla comunità se però alla fine il desiderio di farlo del terzo io non credo che abbia che fare tanto con la politica quanto con il potere questo è beh sì 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 certo sì sì si autoconserva e più se ne ha più se ne vuole una droga ma secondo me non sono d'accordo tanto su questo quanto sul più una volta che l'hai avuto è difficile tornare indietro tornare un altro black you never go back diciamo più o meno una cosa del genere è vero è vero credo che sia una cosa più maschile sai che lo sapevo voglio dire che sia per tutti così e ci saranno anche anche tantissime donne che hanno questa mentalità ma voglio dire che l'inclinazione maschile poi ci sono donne che hanno magari questa inclinazione maschile ma non è ma non è una critica è una secondo me in realtà il problema sta nel nei numeri cioè i purtroppo gli esponenti politici o al potere tra virgolette sono molti più maschi quindi secondo me apparentemente un fenomeno più maschile ma in realtà secondo me come dire il gusto la bellezza della poltrona del potere sì secondo me è assesuato non lo so non sono vinta al 100 come sempre come se non c'è una opinioni è quello che vi piace ascoltandoci e sono le 7 e 29 credo che sia arrivato il tempo di mandare la nostra new hit noi ci sentiamo fra poco bentornati questa è buongiorno taranto di buon mattino con marina luzzi e francesco casula 96 5 nfm se siete in radio oppure se ci volete vedere potete scaricare l'app di studio 100 o ancora andare al canale 98 se siete in provincia di taranto a baribat e brindisi oppure c'è radiocittadela.it studio 100.it insomma tante modalità tutte diverse ma il risultato non cambia vedete noi due ma soprattutto vedete i giornali di oggi il va ok del governo per la cassa c'è la copertura nella manovra e questo il titolo del nuovo quotidiano di puglia risorse assicurate per il 2025 poi class action con i testimonial decisione fra tre mesi in quest'ultima parte riferita alla all'udienza in corso al tribunale di milano che dopo la pronuncia della corte europea di giustizia adesso dovrà decidere se accogliere o meno la richiesta dell'associazione genitori tarantini che hanno chiesto di chiudere l'area l'area caldo poi al centro la disney i produttori avanti tutta sua vetrana battaglia contro lo stop la fiction su sarascazzi e quindi continua appunto questa vicenda anche qui dedicati ben tre pezzi all'argomento insomma poi sanità bufera sui vertici la strigliata in regione il summit dei manager le spese al microscopio nella pancia della prima emiliano statale 100 killer ora un commissario lettera salvini lavori mai partiti tra massafra e gioia il modello il nodo scusate della 16 in realtà il riferimento è un po a tutte le statali killer che ci sono in puglia e poi ancora troppi monopattini abbandonati un pericolo per auto e pedoni crescono le proteste pronti con le sanzioni tra l'altro in questi giorni ci sono state anche diverse notizie di cronaca che riguardavano monopattini non a tanto una forse solo a tanto se non è un anziano caduto l'anziano caduto si è poi stato portato direttamente rianimazione ospedale santissima e poi in un altro paese insomma ancora un problema del genere forse nel bariese un ragazzo che è finito sotto un probabile è una cosa un po pericolosa secondo me bisogna avere molto equilibrio e saperlo usare il monopattino come la bicicletta come la moto sono strumenti dipendere da come li utilizza andiamo a vedere velocemente invece la prima pagina di taranto buonasera leonardo grottagli risale la tensione il titolo di apertura scelto dal quotidiano diretto da enzo ferrari quindi vertenza e lavoro in prima su buonasera taranto nella parte bassa invece del del pezzo c'è la cronaca l'auto officina comuna discarica c'è il del sequestro e queste sono le prime pagine dei giornali di oggi noi ci fermiamo quando torniamo parliamo di avetrana qui non è hollywood con tutto quello che c'è da sapere insomma andremo a approfondire con il nostro francesco che ieri ha dedicato il suo pomeriggio a questo argomento purtroppo per fortuna ce lo dici tu siamo tornati su buono taranto di buon mattino adesso cominciamo a parlare di uno degli argomenti che sta tenendo testa come sapete in questi giorni che è lo stop del giudice di taranto alla fiction sua vetrana sulla morte di sarascazzi avvenuta il 26 agosto del 2010 la prima domanda che mi viene in mente è questa ma il giudice per dire stop ha visto la serie in anteprima no quindi il giudice si è basato allora il giudice ha preso una decisione si dice inaudita altera parte cioè senza aver sentito l'altra parte nel senso che il la serie andava era veniva diffusa in tutto il mondo oggi pare il 25 ottobre e quindi diciamo il comune ha fatto un ricorso si dice articolo 700 cioè urgente e il giudice si è dovuto esprimere in tempi rapidi cioè per evitare che il danno venga in qualche modo diciamo compiuto questo ipotetico danno io intanto sospendo la messa in onda e poi il 5 novembre perché ha fissato al 5 novembre l'udienza le parti insomma a quanto pare si daranno battaglia e nel provvedimento il giudice ha citato le parole innanzitutto del del comune del sindaco che dice il sindaco sostiene che innanzitutto non era a conoscenza del che il titolo fosse a vetrana qui non è hollywood e che groenlandia che la società di produzione lo abbia fatto consapevolmente perché sapeva che avrebbe avuto un impatto negativo sul pubblico ora io ho fatto due setti cinematografici tutti i contratti che venivano fatti io ero in produzione tutti i contratti che venivano fatti in realtà erano tutti per un'opera dal titolo provvisorio tal dei tali infatti io ricordo quando sono stata sul set è vero tu sei stata sul set se non erro che c'era scritto qui non è hollywood e basta non c'era la parola vetrana perché ma era titolo provvisorio penso di sì voglio dire si parlava di riprese quindi era una cosa cioè tra tecnici insomma è il giudice però insomma è una tesi che accoglie dice c'è un danno potenziale nei confronti del comune ma soprattutto il rischio secondo giudici è quello di far passare la comunità di avetrana come una comunità omertosa arretrata e in qualche modo deviante e addirittura dice il giudice criminogena cioè una comunità nella quale nasce si genera il crimine il reato la delinquenza ho capito continuo a non capire però su che base uno può dire ho capito semplicemente per il momento non mi ha dato una spiegazione diciamo secondo la legge però mi sembra mi sembra non lo so strano se io non ho visto una cosa come faccio a dire che questa comunità da questa cosa viene viene danneggiata e danneggiata ma il punto è che non si parla del contenuto della serie ok si parla del titolo allora sul titolo insomma non si può di niente secondo me tu la pensi così secondo te è un danno se fossi se fossi stata il giudice anche io secondo me no è un fatto di cronaca e storia avrei messo solo qui non è hollywood tra l'altro se va in tutto il mondo ma invece io credo che ormai a vetrana sia un caso e quindi andava secondo me sì il nome 743 noi ci fermiamo solo per un attimo ma restate con noi perché avremo giuliano foschini cronista di repubblica che uno dei giornalisti che seguì all'epoca la vicenda e che ancora oggi continua a scrivere tra poco la storia del caso scazzi che è diventato una fiction anzi una serie tv su disney plus e sarebbe dovuta partire oggi e invece no perché come sapete il tribunale di taranto ha detto stop dopo il ricorso del sindaco di avetrana jazzi che aveva detto nel titolo non ci doveva essere il nome avetrana insomma noi non ce l'aspettavamo e ne parliamo continuiamo a parlarne con il collega di repubblica giuliano foschini che ha seguito la vicenda all'epoca e continua insomma a seguirla anche adesso buongiorno giuliano ciao buongiorno a tutti buongiorno a voi buongiorno giuliano allora la decisione del giudice ha colto un po tutti di sorpresa è qualcosa che oggettivamente nessuno si aspettava sì sì nessuno si aspettava perché diciamo secondo me racconta e registra una posizione guarda al di là della serie specifica assolutamente pericolosa cioè l'idea che possa essere un giudice senza aver visto un prodotto dell'ingegno a decidere come non si deve chiamare come si deve chiamare cioè intervenire sull'arte con una sensibilità preventiva credo che sia un precedente pericolosissimo Giuliano tu la serie l'hai vista c'è questo rischio secondo te di indicare anche attraverso il titolo o insomma una comunità omertosa quella di Avetrana? Ma guarda sinceramente no è un tema che io non mi sono posto quando l'ho vista anzi non mi ha sorpreso l'unica cosa che c'è ma è quello che io ho visto che tu hai visto c'è chi nel secondo te di Avetrana ha visto ha visto quella che c'è stata la spettacolarizzazione abbiamo visti tutti i cittadini che si vendevano le interviste piuttosto che vendevano il posto migliore sul balcone per vedere avere una visuale migliore sull'orrore quello c'è raccontato ma devo dire che sono dei passaggi come altri non c'è mai la mano marcata ecco ma ti ripeto io di questa storia la cosa che ritengo sia più un po' più grave è che tutto questo stia avvenendo senza che nessuno sa di che cosa sta parlando e questo penso sia molto grave lo abbiamo detto all'inizio della trasmissione ci domandavamo proprio questo cioè il giudice non ha visto la serie e quindi insomma ci si pone una domanda che sembra abbastanza logica appunto come fai a dare uno stop però lo stop è sul titolo si ricordiamo e non sui contenuti della serie cambiamo il titolo di New York è lo stesso esempio che ha fatto Casula ne parlavamo nei giorni scorsi ieri faceva lo stesso esempio vabbè New York è conosciuta per tante altre cose però eh dobbiamo dire magari la comunità di Avetrana però voglio dire ci sono decine di sinceramente mi sembra un approccio iper provinciale ecco è anche la narrazione del Davide Contro Codio non è una narrazione che non ci sta perché non è il non è il piccolo che sfida il grande e secondo me è un occhio dalla parte sbagliata della storia eh Giuliano un'ultima domanda come credi che finirà questa storia? ma guarda io penso che da un punto di vista diciamo legale questa storia se volessero portarla avanti la porteranno avanti alla fine vincere a Disney nel senso che io trovo la cosa talmente paradossale che non c'è poi se decidono per quieto vivere diciamo così di trovare un accordo perché tra l'altro c'è un sottotitolo che è un titolo che qui non è Hollywood no? tra l'altro la famosa scritta che venne fuori su uno dei Muri Avetrana la cosa si potrebbe risolvere di brevemente quindi io non penso che sarà questo il problema tutt'al più mezzo io quando ho visto la serie ho pensato che i problemi legali potevano arrivare da un'altra parte cioè dai protagonisti della vicenda e infatti ho letto che insomma anche Valentina Misseri è tornata a parlare ha detto pronti a tutelarci ecco forse quello magari potrebbe essere quello ci sta nel senso che comunque nel momento in cui metti in fiction delle persone reali è sempre un passaggio delicato ma nel momento mi permetto di insomma pensare ad altavoce anche insieme a voi nel momento in cui il comune non permette le riprese nel proprio paese non c'è già ma questo non è vivo scusami io so che nessuna ripresa è stata fatta lì nel comune di Avetrano ma non è stata fatta questo lo so perché me l'hanno spiegato mentre quando sono venuto da Avetrana per raccontare non è stata fatta perché la troupe non l'ha mai chiesto per una questione di rispetto perché avendo gli attori scritti come i protagonisti della vicenda quindi è una scelta insomma della produzione questa ok abbiamo avuto un'altra un'altra informazione grazie fare girare una sala scatti per le città di Avetrana non era una cosa da un punto di vista raffinata anzi io vi invito a fare una cosa fatelo voi siete bravi giornalisti bravi giornalisti provate a chiedere al Silla non si è per caso mai ha protestato del fatto che la serie non è stata girata lì io non ho capito quello che ha detto proviamo a chiedere al sindaco se ha mai protestato per il fatto che la serie non sia stata girata lì ah ok va bene cioè che il comune non ha chiesto mai la produzione di Girea di Avetrana per lasciare per 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 insomma per avere anche per far lavorare la gente di Avetrana c'è un sottotesto interessante in questa tua osservazione va bene per il momento il sindaco non parla ma ci proveremo ti faremo sapere intanto grazie grazie Giuliano Foschini grazie a voi collega della Repubblica buon lavoro ciao 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 bentornati su Cittadella Radio e Studio 100 dagli studi di Via Polibio i nuovissimi studi di Studio 100 siamo Marina Luzzi e Francesco Casula questa è Buongiorno Taranto di Buon Mattino abbiamo largamente parlato del caso della fiction serie tv Avetrana qui non è Hollywood adesso cambiamo completamente argomento e parliamo dell'altro argomento di giornata di ieri vale a dire questo video diventato poi virale girato sui social di un investimento insomma ad aver investito un cane di quartiere Dugiano Montefusco un'auto un pick up nel video appunto si vede il cane che viene insomma preso dall'auto Ettore Ettore il cane proprio del paese e purtroppo l'auto non si ferma a soccorrerlo è scattata una denuncia per maltrattamento degli animali perché era la guida oggi ci sarà un sit-in ad Uggiano Montefusco noi vogliamo parlare di questa storia con Rosy Savino che è presidente della LAV di Taranto buongiorno buongiorno sì buongiorno 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 sì sì adesso sì eravamo al punto del discorso buongiorno a te in cui ci dicevamo ok queste storie finiscono sui social e diventano anche virali attraverso i video ma quanti poi denunciano quanti vedono degli episodi di maltrattamenti agli animali al di là di auto o non auto insomma maltrattamenti in genere perché ne vediamo purtroppo ne raccontiamo più che ne vediamo di storie terribili e poi vanno a denunciare magari tu dal punto di vista della LAV che monitora queste cose puoi dircelo sì noi oltre 45 anni ci bastiamo proprio sul maltrattamento e la difficoltà maggiore sta proprio nell'ottenere la denuncia da parte di chi è testimone di questi maltrattamenti perché spesso appunto le persone pensano che fare un post sui social o raccontare un fatto basti a caricare la responsabilità tutti lo ascolta ma per la legge ovviamente io non posso andare a denunciare qualcosa che è stato visto da qualcun altro certo quindi è la persona testimone dei fatti che deve andare a denunciare ma questo appunto c'è c'è paura anche di farlo o comunque non si ha molta fiducia nella legge e quindi piuttosto che avere magari delle risoluzioni eventuali su persone che a volte si conoscono anche si preferisce non denunciare quindi noi noi personalmente quando ci arriva una segnalazione la prima cosa che diciamo è appunto e portiamo ad andare a fare la denuncia e noi diamo ovviamente anche tutto il nostro supporto nel spallo Rosi oggi un sit-in ti chiedo in pochi secondi se puoi raccontarci quali sono gli obiettivi che cosa volete e se voi partecipate come l'avvo partecipate no noi non abbiamo aderito a questo sit-in l'abbiamo appreso ieri dai social ovviamente qualsiasi manifestazione a supporto va benissimo perché è un risvegliare le coscienze noi andando all'episodio specifico dal video non siamo riusciti a capire bene cosa sia successo nel senso che non si vede ciò che è avvenuto davanti la macchina quindi se il cane era davanti se il cane era di lato e poi è andato sotto la macchina questo non si intende perché poi si vede la macchina che è stessa quindi non abbiamo tutti gli elementi per poter esprimere anche un giudizio la cosa certa è che sicuramente avrebbe dovuto rallentare la cosa certa è che c'è un mancato sopporto ecco quella mi sembra sicuramente diciamo l'elemento più oggettivo di tutti quello sì che però purtroppo si traduce in una tensione amministrativa noi fatti i danni ci stiamo battendo affinché le pene sul trattamento degli animali vengano scritte e applicate perché spesso poi non si arriva neanche in giudizio le denunce fatte e questo vengono poi anche accantonate e quindi noi stiamo lottando molto per quello stiamo cercando di sensibilizzare la politica la pubblica opinione affinché vengono accusate per le più sedere quindi ora non so se qualcuno noi abbiamo portato a denunciare per il momento da quello che sappiamo finora però poi potremmo sempre essere smentiti per il momento non ci sembra che ci siano state denunce lo appuriamo ma al momento non mi pare appunto noi pure non abbiamo ricevuto segnalazioni dirette da parte di cittadini ci sono solo arrivate appunto diciamo i link taggi ufficiosi quindi non possiamo dire nulla a riguardo spero che chi è stato ripeto testimone e chi ha visto perché poi se si vede il video la cosa più strista e questo esprime un'opinione personale è che nessuno si è fermato anche dopo oltre la macchina che è andata lì anche dopo nessuno si è fermato per vedere come si è speciale le condizioni di questo cane che poi poco dopo sul ciglio della strada insomma è morta Rosi noi non abbiamo purtroppo più tempo però penso che il messaggio sia arrivato forte e chiaro e ti ringraziamo per essere stata con noi grazie a Rosi Savino presidente della Lab di Taranto buona giornata grazie a voi buona giornata bentornati a Buongiorno Taranto di Buon Mattino abbiamo raccontato di Avetrana e poi vi abbiamo parlato del caso di Uggiano Montefusco adesso invece apriamo un nuovo argomento sì parliamo di truffe agli anziani spessissimo vi raccontiamo di queste vicende persone fragili che facilmente spesso anche utilizzando incidenti a figli nipote insomma persone vicine vengono raggirati e insomma continuamente carvinieri polizia forse dell'ordine in generale portano avanti campagne di sensibilizzazione per dire mi raccomando non credete a chi vi chiede soldi perché vostro nipote ha avuto un incidente o a chi viene insomma a bussare la porta dicendo spacciandosi per un carabiniere come è accaduto di recente insomma veramente la fantasia purtroppo è già la seconda volta che ho questa frase oggi che la fantasia supera la realtà anche in questi casi e insomma c'è un bel lavoro che le forze dell'ordine fanno sul territorio in termini di sensibilizzazione e ieri c'è stato un incontro a Martina Franca a Palazzo Ducale proprio promosso dall'Associazione Nazionale Carabinieri ma con i vertici insomma locali che hanno incontrato gli anziani del territorio per spiegare loro a cosa stare attenti e ascoltare anche le loro domande e le loro paure c'era per noi Luciana Convertini e questo è il servizio ieri a Martina Franca nella sala consigliare del Palazzo Ducale si è tenuto un incontro organizzato dall'Associazione Nazionale Carabinieri guidata dal Presidente Pasquale Geronimo per affrontare il crescente fenomeno delle truffe ai danni degli anziani l'incontro ha visto la partecipazione del colonnello Antonio Marinucci comandante provinciale dei Carabinieri di Taranto e del comandante della compagnia di Martina Franca Silvana Fabricatore l'obiettivo era sensibilizzare i cittadini in particolare gli anziani sulle strategie per difendersi da questi raggiri riporteremo degli esempi di truffe avvenute sul territorio nazionale cercherò di far capire qual è l'importanza e richiamare l'attenzione su questo tema il colonnello Marinucci ha poi spiegato come gli anziani possono difendersi dalle truffe esortandoli a non fidarsi di richieste di denaro via telefono non credere alle mere telefonate i Carabinieri e le altre forze di polizia non chiedono soldi ma forniscono supporto quindi nel caso in cui dovessero ricevere una qualsiasi chiamata una qualsiasi richiesta di denaro nell'immediatezza di non fidarsi il comandante Silvana Fabricatore ha invece approfondito i metodi più comuni usati dai truffatori possiamo ricordare a titolo esemplificativo il finto incidente quindi chiamano le persone anziane ma anche persone piuttosto giovani riferendo che un parente magari un nipote un figlio è stato coinvolto in un incidente e quindi utilizzando anche un linguaggio cinematografico americano dicendo che c'è da pagare una cauzione per liberare il ragazzo o la ragazza chiedono di avere subito dei soldi arriverà poi un loro collaboratore per ritirare quanto richiesto oppure ancora il finto pacco Pasquale Geronimo presidente dell'associazione Carabinieri di Martina Franca ha spiegato come i truffatori riescano a scegliere le loro vittime a volte abbiamo visto che magari il truffatore viene da fuori però poi sul luogo dove devono commettere il crimine hanno qualche referente che insomma individua il soggetto come è successo al mio vicino di casa perché erano rari erano le tre del pomeriggio faceva un caldo da morire quelli sono stati truffati hanno dato oro soldi per questo benedetto pacco mandato dal nipote e poi nel pacco c'erano socchi di frutta non date mai soldi dico io le parole di questa donna sono veramente agghiaccianti cioè sentir parlare diciamo di qualcuno che hanno visto dare loro che poi nelle nostre famiglie soprattutto al sud loro è la memoria il ricordo le feste che hai trascorso il ricordo dei parenti cioè è qualcosa di terrificante mi raccomando state attenti attentissimi mi raccomando davvero 8.26 ci fermiamo quando torniamo abbiamo con noi Giuliano Pavone scrittore giornalista tarantino e ci racconterà del suo nuovo libro ma con lui parleremo anche di tanto altro fra poco bentornati sono le 8.33 con Francesco Casulla e Marina Luzzi adesso parliamo di libri ma non solo non solo di libri partiamo dai libri parliamo di un libro che è in uscita anzi da oggi lo trovate già in libreria si chiama Per diventare Edoardo è scritto dall'amico giornalista e scrittore Giuliano Pavone e vuole essere anche un omaggio una celebrazione in occasione anche dei 40 anni della morte di Edoardo De Filippo che ricorrono proprio il 31 ottobre prossimo la storia però di Edoardo De Filippo si intreccia a quella di un giovane sedicenne tarantino figlio di un operario dei vital sider che grazie a una borsa di studio trascorre una settimana a Roma per intervistare proprio il grande Edoardo quindi parte tutto di lì ma ci facciamo raccontare i dettagli proprio da lui come gli è venuta questa idea buongiorno buongiorno Giuliano buongiorno intanto gli ascolti e poi la grande coppia Luzzi Casula che domina la scena radiofonica tarantino e non solo troppo buono grazie per essere con noi allora Giuliano come ti è venuta questa idea innanzitutto immagino che tu sia un grande amante di Edoardo De Filippo sì però allora io amo Edoardo diciamo Edoardo fa parte un po' del corredo genetico di tutti noi più o meno della nostra età anche della nostra estrazione geografica quindi tutti quanti sappiamo qualcosa di Edoardo da sempre però più recentemente io ho iniziato a approfondire le vicende biografiche la vita di Edoardo e ho scoperto che lui ha avuto una vita incredibile a partire dal fatto che era figlio illegittimo di Edoardo Scarpetta i suoi fratelli tutte le persone famose che ha che ha frequentato da lì mi è venuta prima l'idea di scrivere qualcosa di giornalistico sulla sua vita e poi mi sono reso conto che i valori i contenuti che Edoardo trasmette tuttora perché poi sono contenuti molto attuali si sposavano molto bene con alcuni dei contenuti che ricorrono nei miei romanzi Taranto la fabbrica il sud il lavoro gli anni 80 e quindi ho capito che forse il modo migliore per omaggiare questa grande figura del novecento fosse inserirlo in una storia farlo incontrare con un ragazzo e quindi in questo incrocio generazionale fare in modo che la lezione di Edoardo arrivi fino al giorno d'oggi perché di fatto come dire Edoardo diventa l'anziano mentore di questo giovane ragazzo che poi diventa uomo affronta tutte le sfide che è un ragazzo che deve incontrare durante la vita e lo fa in qualche modo con questo faro di Edoardo che chi è incontrato in una settimana del 1982 a Roma e che gli ha cambiato la vita noi ovviamente leggeremo questo libro e siamo molto curiosi di leggerlo come vi dicevo già da oggi lo trovate in tutte le librerie quindi potete acquistarlo però non possiamo esimerci da farti un'altra domanda perché noi ti abbiamo conosciuto amato per un altro libro che si chiama L'eroe dei due mari e che racconta la storia di una sorta di messia perché forse a Taranto ce l'aspettiamo sempre che arrivi un messia che arriva a risollevare le sorti della città attraverso la squadra di calcio e il Taranto Calcio cioè riprende in mano la situazione del Taranto Calcio in quel caso non è un presidente ma è un calciatore un numero uno mondiale diciamo che arriva che arriva a Taranto per portarla fin dove i tifosi vorrebbero e te l'aspettavi poi questa storia quando hai letto la storia di Campbell la conferenza stava tutto il resto non hai pensato davvero noi scrittori talvolta siamo profetici della storia io ve l'avevo detto ho avuto come una sensazione di déjà vu dall'eroe dei due mari potremmo passare all'eroe dei due oceani o l'eroe della manica essendo lui inglese però appunto il sospetto è che queste promesse mirabolanti anche in questo caso come nel mio romanzo nascondono qualche fregatura sotto comunque ecco più che pensare di essere stato profetico ho riflettuto sul fatto che per uno come me che cerca di inventare delle storie paradossali e mirabolanti intorno al calcio Taranto è una vita molto difficile perché poi la realtà tendenzialmente supera la fantasia quindi bisogna alzare sempre più l'asticella i colleghi del nazionale di quando lavoravo al fatto dopo questa ennesima storia mi hanno scritto abbiamo parlato abbiamo commentato mi hanno detto adesso io capisco sempre perché tu hai detto no a Roma e no a Milano perché quello che succede a Taranto non succede da nessun'altra parte poi succederà nel resto d'Italia beh siamo un bel laboratorio siamo un grande laboratorio lo siamo sempre stati è verissimo lo ho sempre sostenuto anch'io mi viene in mente quando lo raccontava Alessandro Olio Grande tutto il citismo anche lì siamo stati un grande laboratorio la seconda repubblica nasce da lì è vero c'erano già in luce tutti gli elementi poi di quella che sarebbe stata la seconda repubblica nel bene e nel male siamo all'avanguardia e non siamo mai normali questo è un po' il nostro slogan non siamo normali non siamo banali non siamo scontati forse anzi siamo anche troppo speciali e comunque redazioni nazionali dei giornali aprite delle redazioni locali a Taranto perché davvero c'è tanto da raccontare forse dopo Napoli c'è Taranto quando chiedevi a Giuliano se si è sentito profeta in realtà una delle cose sulle quali riflettevo è che uno come lui rispetto a una storia come quella di Campbell in qualche modo secondo me può sentirsi in qualche modo soddisfatto di aver saputo leggere diciamo anche in anticipo se vogliamo la nostra società il nostro territorio il nostro tessuto il desiderio i bisogni e anche la fiducia cieca che in qualche modo questa comunità ripone porta con sé o sbaglio Giuliano? sempre all'esterno ma è una magra soddisfazione sinceramente diciamo ecco quanto meno professionalmente profeta però sì sì però dai stiamo a vedere come andrà a finire magari invece la sorpresa è che c'è un litofine sarebbe veramente sorprendente dal mio punto di vista ce lo auguriamo ce lo auguriamo nel frattempo andiamo in libreria ad acquistare per diventare Edoardo il nuovo libro del scrittore e giornalista Tarantino nostro amico amico della città Giuliano Pavone grazie Giuliano ciao Giuliano in bocca al luce grazie mille a voi a presto copertina stupenda Giuliano è stupenda ah è peccato che non l'abbiamo anzi siamo ancora in tempo per dirlo è del grande artista Tarantino Antonio Rolla grande pittore Tarantino nonché storico vicepresidente dell'Isippo sono molto orgoglioso perché è un quadro bellissimo e secondo me molto adatto poi ai contenuti ai contenuti del libro anche Antonio Rolla nel suo piccolo è un mentore di una generazione di artisti che si sono formati al suo liceo ecco inizio ma parla veramente Tarantino questo libro sì c'è tanta Taranto ci sono i tamburi c'è la fabbrica c'è l'archita c'è il pullman numero 4 davastate eh sì sì passate passate dai tamburi mio padre che lavorava mio padre ci lavorava all'amatri siamo tutti a memoria le linee dell'amata chissà quali intrighi avevi che ti ricordi che il numero 4 arrivava a state ma il 4 a state l'11 a Paolo VI sono le basi della nostra generazione il 3 era via Orsini l'1-2 era via Galeso ma io ho la nostalgia delle circolari la circolare destra sinistra rossa e nera rossa e nera non ci sono più ma presto avremo le BRT cambieremo completamente il nostro modo di viaggiare a Taranto lo sapevi? lo sapevi? sì 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 io cerco di seguire sei sempre informato siamo andati avanti ma con Giuliano è un piacere guarda quando sei a Taranto vieni a trovarci facciamo una ma guardate io dal 10 al 14 novembre sarò a Taranto per fare un po' di presentazioni in città in provincia per cui ah sei prenotato sveglia presto e via Polibio via Polibio bellissimo dai ciao Giuliano ciao Giuliano buona giornata ciao ragazzi grazie buongiorno agli ascoltatori 8.52 ben tornati su Cittadella la radio e su recento punto it avete sentito una delle nostre dei nostri pezzi dal passato scelti questa mattina da Piero Caffio che insieme ad Alessandro Labriola guidano la nostra parte tecnica adesso però parliamo di musica e beneficenza esatto 130.000 euro quelli raccolti durante il concerto e grazie alla vendita di 5.000 biglietti del concerto di Kidi Ugi rapper ormai Massafrese ormai famosissimo a livello internazionale che ogni anno insomma porta avanti questa raccolta ieri c'è stata la consegna ufficiale questi soldi verranno utilizzati per la ricerca ma ci spiega tutto Valentina Castellanita nel suo servizio è andato veramente bene grazie miei amici grazie a tutti siamo riusciti a realizzare questa cosa che spero che negli anni vada ancora meglio e facciamo ancora di meglio tuo fratello sarebbe felice? lo spero magari sì Angelo Mellone è il fratello di Simone un giovane Massafrese scomparso a causa di un cancro a lui è stato dedicato il concerto di beneficenza che il celebre rapper Kidi Ugi ha tenuto fine settembre per il secondo anno di seguito lui e i suoi amici hanno fondato l'associazione Roots che vuol dire radici e insieme sono riusciti a mettere su una due giorni che ha venduto circa 5.000 biglietti e ha raccolto 130.000 euro soldi che ieri sono stati donati ai reparti di oncoematologia pediatrica e oncologia del Santissima Annunziata di Taranto una piccola cerimonia di consegna a cui era presente anche il direttore generale dell'Asla di Taranto Gregorio Colacicco una raccolta così importante che noi accogliamo con un grande abbraccio ma ci sentiamo anche responsabili di tradurre o comunque di far sì che queste risorse o comunque queste donazioni del cuore si traducono in miglioramento della qualità dell'assistenza e quindi abbiamo avviato un progetto per una biobanca che deve vedere l'Asla di Taranto in rete con le biobanche di tutto il mondo per portare poi un contributo alla ricerca e quindi ai farmaci cosiddetti innovative una parte della somma infatti sarà utilizzata in un progetto di ricerca per la creazione di una biobanca prevalentemente orientata a patologie oncoematologiche una banca in cui saranno immagazzinati dati biologici utilizzati i fini scientifici poi tradotti in campo clinico e assistenziale per migliorare la qualità delle cure dei malati oncologici del territorio come ha spiegato il dottor Valerio Cecinati primario di oncoematologia pediatrica anessantissima annunziata tutto quello che viene investito nella ricerca e nella salute dei bambini soprattutto ma anche delle malattie severe sono un investimento per il nostro territorio e significa investire nella ricerca e nella cura per le persone che abitano e vivono in questo territorio e siamo arrivati alla fine anche per oggi grazie alla nostra Valentina Castellaneta per questo servizio e noi ci ritroviamo come sempre lunedì mattina quindi grazie per essere stati con noi da Marina Luzzi e grazie a Francesco Casulli grazie ad Alessandro Labrioli a Piero Ciaffio che hanno guidato la regia di oggi torniamo lunedì dalle 7 alle 9 e mi raccomando anche durante e soprattutto questo fine settimana state bravi ma solo se potete eh ciao ciao ciao